Roberta Bruzzone. Roberta Bruzzone è una valente, valentissima criminologa che dice delle cose molto interessanti e che personalmente condivido. Per esempio questa, una dichiarazione, vi siete mai chiesti perché è gratuito iscriversi si sottintende ai social? Perché la merce siamo noi? Soltanto un incosciente o un cretino integrale non sarebbe d'accordo con questa condivisibile dichiarazione. Roberta Bruzzone, infatti, ha più e più volte sottolineato i rischi di una sovraesposizione mediatica, soprattutto a beneficio dei minori. Ma c'è sempre stato qualcosa che non mi ha pienamente convinto. Mi sono sempre chiesto che cosa fosse. Stasera ho trovato almeno una prima risposta. E lei scatena invidie perché è una donna molto popolare? Scatena invidie perché faccio un lavoro che la maggior parte della gente probabilmente, molto probabilmente sogna di fare, mi occupo con successo di questo tipo di attività da molti anni, ho anche molta visibilità televisiva, godo di molto credito in tantissimi ambienti e diciamo sono anche una bella donna, quindi non mi nascondo. Che cos'è l'invidia? L'invidia è la scusa più banale e diffusa tra gli esseri umani. Dici questo perché sei invidioso. Invece magari uno le cose le dice perché le pensa. E forse qualcun altro non ha mai sognato nella propria vita di fare il criminologo. L'invidia limitandosi a fare un lavoro di tutt'altro genere, che sia il contadino o l'ingegnere o l'imprenditore. Magari quella persona semplicemente sta bene così. E che cos'è che causerebbe tutta questa invidia nei confronti della dottoressa Bruzzone? La sua avvenenza fisica? Ma quella non nega che esista, ma mi sembra un fattore da non tenere minimamente in considerazione. Così come non terrei in considerazione il fatto che si tratti di una persona che appare spesso in televisione, o che goda di un credito indubbiamente esistente in alcuni ambienti, senza però specificare quali. Una cosa mi avrebbe fatto piacere che la dottoressa Bruzzone dicesse. Io sono invidiata perché sono maledettamente brava. Ma non l'ha detta.